ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie spi fa 18 bene iniziamo novembre mini reso conto siamo primi a due punti dalla seconda e tre punte alla terza dobbiamo giocare subito in casa contro le notte in gun forest notte in gun forest che ho visto prima nella classifica è diciottesimo quindi guardate che lo facevo uguale o perlomeno come faccio quasi sempre simula partita guardiamo di iniziare il video bene loro vengono da tre pareggi consecutivi boia contro altsfield sheffield e bolton speriamo che stavolta invece la loro striscia positiva tra virgolette si dai la loro striscia di risultati utili possa interromperci perché magari perdono perché vinceremo noi comunque dopo 39 minuti 2 a 0 al testo gomez e al trentanevesimo edwards attenzione arrivi vabbè 3 a 1 vai ok maulida 4 a 1 buono buono iniziamo bene sì non ce l'ho fatta a dire in maniera adeguata che ha fatto gol e a che minuto di notte in gun forest comunque buono iniziamo così vincendo subito la prima partita seconda partita giochiamo in trasferta contro l'alt city al city che stranamente non è fra le prime posizioni solito io ci tengo sempre a precisare quando in realtà conosco un po la squadra solito appunto in realtà l'alt city è una squadra che diciamo anche loro fanno su e giù come già disse il norwich e dello swansi fra premier e scempeship e quindi strano che non sia fra le prime posizioni però ciò nonostante voglio voglio giocare la partita proprio in maniera manuale ecco perché non mi fido a simularla secondo me se la simulavo ci andavo a perdere comunque detto questo la condizione giocatoria è ottimale niente iniziamo il primo tiro dopo quattro minuti ci porta in vantaggio così da nulla alle gomez fuori di poco attenzione maolida che gol 2 a 0 e andiamo di buono prima serie rischiato di riprendere il go da l'alt city allora fra l'arzi deve essere preso gol si è preso clamoroso perché come prima è stato il loro primo tiro neanche in pointa fra l'altro e invece poi subito l'azione dopo maolida invece la doppia per noi buono cerchiamo di assicurarci questa vittoria brerito mamma mia strato il 3 a 0 che molto probabilmente avrebbe definitivamente chiuso la partita e tu as mamma mia era un gran tiro è perché la posizione non era affatto semplice peccato di poco una vittoria decisamente meritata giocando tranquillamente perché non si è fatto niente di eccezionale abbiamo solamente giocato come sappiamo e come dobbiamo insomma siamo arrivati alla terza partita del mese perché sono qua sono qua per farvi vedere una cosina allora come vedete svi la re chi n'ones a quanto pare sono stati chiamati in nazionale quindi per la prossima partita mi sono dovuto dicono sono dovuto correre a ripari perché altrimenti avremmo giocato con un portiere che in realtà non è un portiere quindi ho deciso di prendere lui borgian 32 anni 68 chiaramente svincolatone mi scoccia un po' perché c'è ora adesso di portiere non ho tre e già ne ho utilizzato solamente uno relativi la re chi n'ones è solo qua in caso di necessità adesso addirittura non ho tre però ho preferito diciamo a prendere un partita appunto con detto prima con un giocatore diverso dal portiere insomma con un giocatore che non è un portiere rischia di perderla quindi niente ho fatto così comunque terza partita come avevo detto prima in casa contro il rocci del rocci che se non erro si rocci che se non erro è una squadra che è venuta su insomma noi l'anno scorso per differenza nostra guardate com'è messa noi lottiamo addirittura quanto pare per il titolo comunque per la promozione loro niente su ultimi strasciati con 9 punti con addirittura 4 punti da la salvezza diciamo il 13 e niente quindi vabbè questa nostra ve lo farò vedere e niente giochiamo anzi simuliamola perché direi che è il caso va a borgiano in porta si automaticamente buono e vabbè comunque gli ultimi risultati vinto perso e vinto eh non è che poi se non sbaglio sono le stesse partite che avevano fatto le squadre delle che avevano fatto la prima e nottingham forest che coincidenza strana comunque il 22esimo ecco carabal fuori brereton al trentesimo ci porta avvantaggio buone io banne al 40esimo riequilibriare tutto gomes ci riporta in vantaggio prendo fidato e maulita a quanto pare l'ha chiuso definitivamente all'ottantasettesimo portandoci sul risultato di 3 a 1 buono another victory vabbè un'altra vittoria comunque un attimino la avevo questa email qui comunque abbiamo venuto colev a ternana per pochissimo vabbè era un'offerta tanto non giocava e regola la rosa è abbastanza ampia cioè non è che rischiamo di eventualmente perdere le partite a tavolino per mancanza dei giocatori quindi vabbè nel secondo ho deciso di accettare la loro offerta e quindi colev appena si aprirà al mercato ci saluterà ci abbandonerà quarta ed a regola penultima partita del video torniamo a giocare in trasferta ok stavolta la gioco indipendentemente dalla posizione dei nostri abbezzari in classifica la gioco allora boh maglia molto simile vabbè lo sapevo o perlomeno si sapeva a livello di colorazione come a quella dell'arcity noi però giochiamo con la prima maglia non con la seconda allora a regola caravalle è stato squalificato bisogna sapere da precedente guardiamo un po' chi posso mettere al suo posto non c'ho difensore centrale a parte petrasso bene no piuttosto no mettersi là non c'è un mila niente che troverò lo faccio a no piuttosto metto wire vai che magari c'è 66 così vai iniziamo bene maolida buttala dentro maolida al 24esmo la sblocca lui no volevo andare da pregata alla banderina non so vabbè viziane scritto sulla maglia credo sia il suo nome un po' bruttino tra l'altro vabbè comunque 1 a 0 la sblocca maolida bella roba vai brereton buttala dentro anche te dio buono di come che gol credevo andasse fuori il tiro invece no bella roba di vai anche te sul tacco sia il teloni allora cosa fanno tutti insieme piangono 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 2 a 0 gomes con un gran gol dalla distanza buono dai rigori tanto ormai è così fatto una scivolata mezz'ora prima poi lo torna addosso casca rigori ormai non lo sto nemmè più a di perché sono le classiche cose però un po' troppo strano eh questo rigori anzi questi rigori non so se capite anche a voi in questo modo qua vabbè vediamo se svilare si lascia prenderla yes toh pupa anche se non cambiava probabilmente no oddio forse cambiava la sostanza per dire che non è che manca così poco 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 eccoci mentre sto zitto 2 a 1 è arrivato il pupa Joe e me l'ha fatto me l'ha fatto si è vendicato insomma vai vabbè fine di scorsa che stavo dicendo troppo cose insieme 2 a 1 manca sempre tanto eh speravo un chiaro mancasse po' invece quanto pari era 83 ha volato 88 quindi niente stiamo attenti ecco che era finita la partita allora allora gloria non lo sapeva andare a finire così ma tanto ce l'hai scommesso infatti c'avevo il presentimento via nel giro di 5 minuti no si 5 minuti da vincere 2 a 0 appareggio a 2 a 2 e non è ancora finita mamma mia mamma mia sta stato che succede 2 a 2 dovrei essere incazzato si lo sono si sembra no c'era una posa vecca l'ora in porta ho visto parentesi non lo sapevo si può vedere se c'era posa vecca si può vedere che faceva posa vecca che so ciccio vabbè comunque sì sono incazzato però non è colpa di mia nel giro cioè oddio anche il paese ma tanto nel giro è fatto si se mette la voglia fa perde o pareggia a volte quindi niente sono incazzato ma fino a 100 punto comunque alla fine siamo sempre primi a 6 punti no tanto per capire ultima partita del mese vedo in sequenza anche del video come vedete sono già sul simulapartita perché fra l'altro a parte mi scorso già in casa fra l'altro non so se prima quando vi fessi vedere la condizione no anzi la classifica del rocita avete visto anche il miwall sono tutte e due lì praticamente niente la simulo comunque dopo 7 minuti Brereton 1 a 0 io c'ero 8 per gomez speriamo sia niente di grave Brereton nel 43esimo raddoppia maolida 53esimo io ho elliot del miwall 3 a 1 edwards al 78esimo e la partita finisce così un bel 4 a 1 peccato perché se prima non andavamo a pareggia la partita a quest'ora avevamo fatto 5 su 5 ovvero mese anzi 5 vittorie conquistate nelle 5 partite del mese ma chiaramente noi siamo duri e ciò non è successo gomez meno male con il cerottino non si era fatto nulla praticamente 2 giorni e niente è già tornato e è già disponibile per la prossima partita comunque siamo arrivati a dicembre aspetta prima vediamo no un attimino se la faccio confusione la classifica allora siamo primi e abbiamo aumentato di ben 5 punti il vantaggio alla seconda perché inizio video se non sbaglio le punte erano 2 adesso sono ben 7 quindi bene o si tra l'altro vabbè sono 7 punti anche quelli di distacco da noi con la terza il preston che fra giù accederemo subito nel prossimo video e poi vabbè 8 punti alla quarta comunque abbiamo un bel distacco dispetto soprattutto a quello che avevamo a inizio video a inizio mese dalle nostre diciamo inseguitrici e detto questo volevo guardare un po' le partite che dovremo affrontare a dicembre e niente sono ben 6 partite ce le faccio entrare tutte magari forse simulerò qualcosa in più per evitare che sia lungo mentre ce ne sono non ce ne sono allora 1 2 3 in casa e 30 sferta ora vedo se fare 4 simulazioni 2 giocate non lo so vedo un po' come come ci comportiamo perché anche in caso di eventuale partite di 30 sferta video in sequenza meno possibilità di vittoria secondo me se non la simula alla fine anche se dovessimo simulare e perdere alla fine siamo sempre abbastanza distanti da quelle dietro abbiamo un buon margine di stacco insomma comunque niente i prossimi mesi saranno momentaneamente a regola salvo poi eventuali partite aggiunti di coppa ma non credo 6 partite e niente quindi comunque il video questo qua è stato strabene non purtroppo in maniera ottimale cioè il voto non può essere ottimo per il pareggio maledetta la miseria ho ottenuto contro i wolves così negli ultimi minuti perché siamo dei brodi anzi sono un brodo e niente questo è quanto insomma detto questo niente non è di lasciarvi vi ricordo di rimettere per fare se volete le solite tre cose ovvero lasciate un bel vi piace al video condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati e niente vi aspetto nel prossimo video nel quale appunto inizieremo dicembre via vi aspetto ciao 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 Grazie a tutti.